Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Finalmente eccovi il video Cosa ne penso di Cursed City, città maledetta nella nostra lingua, l'ultimo uscito della serie di Warhammer Quest e uno dei giochi in assoluto più attesi del 2021 che ci è stato fornito dal nostro negozio sponsor, il gioco Libri di Asimola, tanto trovate sempre in tutti i video. Primo link è in descrizione e poi a fine video ve lo metto anche in sovimpressione per ordinarlo. Si parla di un capolavoro senza età, si parla di un Warhammer Quest che ha portato anche la sua variante nel Warhammer 40.000 a Blackstone Fortress se vi ricordate, ma soprattutto si parla di un Warhammer Quest che ha visto diverse ambientazioni perché è partito dal Warhammer Vecchio Mondo per passare poi a Legend of Sigmar e ora rimanendo sempre Legend of Sigmar ha voluto tirare fuori un'ambientazione che è una via di mezzo fra il Vecchio Mondo e Legend of Sigmar e ricorda anche un pochino Dracula di Bram Stoker o volendo anche Vermintide. Ma ve ne parlo a breve dopo la sigla. One Hammer Quest, città maledetta, gioco della Games Workshop, è un titolo stand-alone quindi ho visto già qualcuno che me l'ha chiesto nel video precedente anche sui social ma è un'espansione, devo? No, no, no. Tutti quanti poi usciranno ovviamente i pacchettini espansione per questo come in tutti i giochi della GV però il gioco base è sempre stand-alone e non ha bisogno di prendere regolamenti vecchi anche perché il Vecchio Warhammer Quest, a parte fuori produzione da quasi almeno 20 anni ma se lo trovate vi chiedono almeno 400-500 euro tenuto decentemente quindi non sarebbe potuto essere altrimenti ed è un'ambientazione spettacolare, come vi dicevo poc'anzi che ci porta in questa città maledetta di Ulfenkern dove saremo chiamati a risolvere un problema o per meglio dire uccidere, massacrare dei vampiri che stanno completamente assoggettando tutto il feudo e il borgo di Ulfenkern e la gente ha bisogno di essere aiutata quindi si torna un po' anche alla concezione Bram Stoker vi ricordate il castello di Dracula? La Romania o Moldavia, scusatemi, insomma, dell'epoca e tutto quanto di Dracul e quindi è un'ambientazione molto bella perché ricorda anche un pochino volendo, come vi ho detto appunto, Bram Stoker, Vermintide o anche un altro capolavoro che era Mordheim come ambientazione quindi sicuramente Koopa, Gotica, Vampiri, Fantasmi, Ghoul, Zombie, Scheletri e dovrete, nello stile un po' di Blackstone Fortress hanno tenuto l'idea, sconfiggere tutti quanti i vari boss per poi dopo arrivare a combattere con il lupo che è il reggente del castello appunto di Ulfenkern e colui che ha ricevuto il dono dell'immortalità ed è il primo vampiro che poi ovviamente ne ha originati altri ci sono all'interno delle miniature stupende in un gioco completamente cooperativo e ora vi spiego un pochino come funziona giusto per farvi un'idea ma prima di tutto, unboxing confezione del gioco bella grande e il disegno mi piace da morire anche la colorazione è un po' strano, è il tipo di disegno un po' forse fumettoso un po' strano per la GV cioè non ho mai visto un tipo di disegno in questo stile però la resa è veramente spettacolare vedete il gruppo di eroi che entrano dentro la città e il castello maledetto di Ulfenkern alla ricerca del lupo per sconfiggerlo e riportare la pace in questo luogo maledetto apriamo classico foglio per coprire quello che c'è sotto vi dico che le miniature mia moglie le ha già tolte dall'isprue le ha già montate tanto a breve ve le facciamo vedere comunque ci sono tutti quanti i dadi del gioco che sono i dadi da tirare e mettere sulla scheda che vi danno praticamente la possibilità di attivare abilità, attacchi e cose del genere ma anche le azioni semplici muoversi, cercare quindi tirate il dado e lo mettete sulla scheda il dado missione il dado avventura il dado destino e poi altri dadi colorati che sono di solito per gli attacchi vedete ci sono dei simboli sopra per attacco colpo critico ferita critica ferita normale difesa normale critica e così via e ad ogni arma o attacco difensivo è collegato un dado colorato che poi vedete direttamente sulla scheda poi un bel pacco con tutte le schede dei personaggi e dei mostri lui vedete è Raducar il lupo con tutte quante le sue regole abilità speciali caratteristiche ferite e intelligenza artificiale da tirare un dado per vedere cosa farà perché questo è un gioco cooperativo non c'è dungeon master poi mazzi di carte potenziamenti carte trappola carte oggette e quant'altro qui abbiamo i manuali di gioco il regolamento di gioco che è veramente facilissimo e delencato bene e pieno zeppo di disegni vabbè le miniature pazzesche ve le faccio vedere a breve il libro delle missioni quindi con tutti quanti i setup vabbè a parte uno sbotto di lore all'interno che me lo devo leggere e spolpare tutto e poi tutti quanti i setup per le missioni e anche capitoletti narrativi perché a un certo punto della missione non ve lo voglio spoilerare magari vi chiederà vai nella missione tot e leggi il paragrafo tot perché come detto appunto c'è anche una componente narrativa molto importante una busta da non aprire come su Blackstone Fortress fino a che non ve lo dirà il gioco quindi questa cosa deve rimanere sigillata e poi figata delle figate le war scroll per usare tutte le miniature presenti in questo gioco tutte dall'A alla Z in Warhammer Age of Sigmar e questa è la furbata e la figata della Games Workshop perché tanta gente che magari di questo gioco quindi ne frega nulla però lo compra anche soltanto per avere le miniature e le war scroll magari per usarlo nell'esercito di Nagash con i non morti quindi avete le war scroll per schierarli con il punteggio e tutto in Warhammer Age of Sigmar geniali un po' di bustine per conservare il tutto e poi abbiamo tutte quante le planche i token questo qui praticamente è un orologio che scandisce le ore diurne e le ore notturne perché il gioco è diviso in queste fasi ed è una figata assurda perché durante il giorno i mostri sono meno potenti mettiamolo così la notte sono più potenti ma il problema è che di notte iniziano a sbucare i vampiri quindi se concludete la missione di notte sappiate che diventerà molto più difficile perché si risveglieranno i vampiri appunto dalle loro varie poi va bene tocca in ferita che sono queste qua giù in fondo e quant'altro e visto che ci sono vi faccio vedere un po' con le mani di mia moglie vi faccio vedere un po' delle splendide miniature che ci sono dentro delle più belle qui poi le vedete tutte quante colorate ovviamente questo è un vampiro un newborn guardate che spettacolo assurdo anche la posa un vampirone gigantesco in forma semi pipistrello vi ricordate come nel film di Bram Stoker quando assume le sembianze Dracula mamma mia mamma mia non c'è limite allo spettacolo uno dei boss perché nel gioco ci sono quattro boss che dovete sconfiggere e una volta sconfitti avrete accesso alla battaglia con il lupo il signore reggente di Ulfenkarn che ora vi faccio vedere una delle guardie del corpo ce ne sono due e praticamente sono delle specie di giganti con queste alabarde che sono bellissime e questo è uno dei due una delle guardie del corpo del conte il boss finale quindi l'ultima battaglia e l'ultimo che dovete sconfiggere per liberare la città di Ulfenkarn dalla maledizione è lui e poi anche andando nei nemici normali che andrete a fronteggiare che sono di base sciammi di pipistrelli e topi che non vi faccio vedere sono piccolini e poi zombie e scheletri guardate anche lo scheletrino il classico fante che troverete dentro il castello con lo scudo e la lancia bellissimo si vedrà poco perché questa luce qua fa un po' schifo però un eroe dalla distanza quindi un ranged questo qui è un elfo guardate bello per farvene vedere tipo uno per tipo un folle ogre da battaglia questo è bellissimo ed è quello che poi si fa la parte del tank quindi prende colpi ma ne dà anche tanti lui è il più bello di tutti e praticamente dovrebbe essere Jensen Darroch e è anche il protagonista di questa storia bellissimo un cacciatore di streghe dell'impero mamma mia e poi il classico prete o comunque mago castante appunto per la componente del gruppo castante magie debuff e cose del genere insomma avete visto che la qualità è mostruosa immaginatevi le dipinte lo svolgimento del gioco è ormai un classico e il regolamento l'ho letto un po' velocemente ve lo dico sinceramente saltando a volte tante cose perché sono le stesse identiche spiccicate regole degli altri Warhammer Quest di Age of Sigmar e anche di quello del 40.000 Blackstone Fortress abbiamo dei personaggi con 4 slot sulla scheda ogni personaggio è diversificato e una cosa che adoro di questo gioco hanno voluto inserire un po' il discorso delle classi come in un Morp ad esempio in un GDR c'è quello che tanca quindi regge meglio il danno c'è quello che fa tanto danno c'è quello che casta o fa debuff e anche il manuale sta cosa come termini neanche tanto la nasconde il gioco è solo in italiano come potete vedere e quindi è bello perché devi cercare nell'avventura ci devono sempre essere 4 eroi quindi lo potete giocare tranquillamente in solo però le dovete muovere tutte e 4 e potete metterci chi vi pare a voi non è che ci sono delle limitazioni anche perché se un eroe muore non c'è più disponibile per la campagna e dovete usarne un altro quindi magari metto un tank un dps un dps a distanza e un castante sembra di fare il gruppo su lord of the rings online però l'idea è molto bella e anche la genialata di cercare di avvicinare i giocatori del computer al gioco da tavolo nella maniera secondo me più ottimale possibile e gv c'è riuscita e regolamente è sempre lo stesso all'inizio ci si sa una mano di 4 dadi che si vanno a tirare e poi c'è la possibilità di ritirarle e altre cose e si vanno a mettere sui 4 slot aperti della scheda il valore che c'è sul dado deve corrispondere al valore minimo richiesto per fare una data azione ad esempio per muoversi basta un 1 o più quindi tutti i dadi sono buoni per muoversi però magari per cercare o fare un altro tipo di azione potrebbe essere richiesto un dado con un 3 o più o 4 o più quindi se avete fatto per assurdo è impossibile però per assurdo tutti i due o tutti uno non avete assolutamente la possibilità di cercare in quel turno perché non avete un dado con almeno un 4 o più ed è bellina come idea poi ovviamente ci sono le meccaniche degli attacchi gli attacchi di solito hanno sempre uno o due o più mentre invece gli attacchi più pesanti che potete fare quelli più forti magari richiedono un 6 o richiedono un dado sicuramente più alto quando si va a fare il combattimento si guarda il tipo di dado un po' come su Descent che bisogna tirare magari tira quel tipo di dado lì lo tiri e per i simboli che escono possono essere un niente di fatto un colpo normale o un colpo critico colpo normale e colpo critico diviso da una barra sulla scheda uguale spiccicata a Warhammer World Cry come vedete la GV riprende un po' dei suoi giochi magari l'arma fa 1 danno normale se fa un critico fa 3 i mostri non si possono difendere almeno che non siano boss i boss sì mentre invece voi quando verrete attaccati dai nemici che hanno intelligenza artificiale potrete tirare il vostro dado difesa che sarà magari il dado viola il dado blu e cose del genere per vedere di annullare i loro colpi ed è facilissimo colpo annulla colpo colpo critico annulla danno critico cioè difesa critica annulla danno critico quindi regolamente è facilissimo e ci sono vari mazzi di carte che vanno girate sono equipaggiamenti trappole anche semplicemente eventi e carte missione perché alcuni dungeon non sono tutti quanti preparati all'inizio ma li scoprirete mano a mano che girerete le carte vi farà vedere come montare le stanze volta per volta e quindi anche bellino perché dà molto alla rigiocabilità per il fatto che il dungeon non sarà mai per due volte lo stesso ed è veramente ragazzi molto interessante poi le miniature come dico sempre avete visto in fase di unboxing cioè la gv riesce sempre a migliorarsi arrivi a un punto arriveremo fra due o tre anni che queste miniature saranno brutte al confronto di quelle che usciranno cioè non c'è limite veramente allo spettacolo vi potete immaginare quanto un gioco del genere ma abbia veramente strappato il cuore e diverse persone che mi seguono l'hanno già comprato anche perché io ve lo consiglio da amico poi ovviamente valutazione vostra prendetelo ora perché non solo gv ha promesso che ne farà altre stampe staremo a vedere però sta andando a ruba e già non si trova più e già chi lo compra ora lo compra in inglese ragazzi va a ruba e questo è un pezzo che i bagarini maledetti consentitemelo invece di farvelo pagare 150 fra tre mesi ve lo faranno pagare 300 euro quindi vi conviene prenderlo subito magari metterlo da parte ma io non ho il gruppo per giocarci ma io ti piace Warhammer ti piace le miniature e tutto lo vuoi prendilo mettilo lì e prende polvere però prendilo perché è il classico gioco come Space Hulk che poi lo trovi a 300 euro e non ti lamentare perché sono giochi che vanno via a ruba il negozio gioco libreria semola ne ha ordinate 20 copie di cui 15 le ha già fatte fuori tipo in due giorni fra pre-order e tutto quindi se lo dovete prendere prendetelo ora e appunto vi rimando al nostro negozio sponsor gioco libreria semola primo link in descrizione in sove impressione al miglior prezzo sul mercato e come vi dico sempre sia che un prodotto lo troviate in lista ma sia sold out finito o che proprio non ci sia in lista scrivete sempre al supporto a Corrado che è il proprietario del negozio e ditegli arrivo dal canale di Coridan questo gioco o l'hai finito o non ce l'hai ma si potrebbe comunque ordinare anche se è un fuori catalogo lui farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato per spese superiore 79 euro spese postali gratuite non in tutta Italia in tutta Europa in 48 ore l'avete a casa e in più ricordatevi sempre il codice discount Coridan 7 come vedete sulla nota per avere uno sconto del 7% quindi ragazzi se lo dovete comprare anche a prende polvere perché non ci avete amici né nulla però lo volete da morire prendetelo ora perché già fra un mese o due lo pagherete il doppio sappiatela questa cosa vi ci sono già un bel po' di bagarini in giro che mi fanno un bestia lì comunque esistano anche loro purtroppo fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi è Warhammer Quest nella sua per me questa senza mezze parole anche rispetto al primo Warhammer Quest uscito questo è in assoluto il più bello non lo scambierei assolutamente con niente ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti